Siamo a Chicago e siamo nella casa del Dio del Basket di Michael Jordan. Jordan più di un giocatore, più di un atleta sportivo, è stata una persona che è riuscita a ispirare milioni di atleti nel mondo. Come ha fatto? Con la semplice etica del lavoro. Jordan non voleva perdere. Jordan non voleva mai sottomettersi a qualunque squadra e in qualunque avversario. Jordan aveva questa ossessione compulsiva di vincere. Voleva vincere, vincere, vincere e ancora vincere. Jordan non ti batteva semplicemente in uno conto. Jordan ti umiliava e quando penetrava ti schiacciava in testa e con la lingua sempre fuori. E poi non parliamo di Sophie Dewey. Stupendo. Bassi le parole, godiamoci insieme. Michael Jeffrey Jordan. Stay hard, WorldCore. Tu sei migliore. Grazie a tutti. Ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo video con John Fittascoach. E tu Fittascoach. Stay hard. Tu sei migliore. Bye bye.